Prima nevicata in Puglia sulle vette più alte della provincia di Foggia. Da ieri mattina una sottile coltre bianca ha ricoperto le cime del subappennino Dauno, imbiancando i tetti di Faeto e Monte Leone, uno spettacolo come sempre suggestivo. Ma il maltempo ha colpito la regione pugliese con insistenza sin dalle ultime ore del giorno di Natale, portando come dono un weekend piuttosto rigido con piogge, vento e temperature in picchiata. Dal Foggiano al Salento l'allerta gialla è stata assoluta protagonista del Natale pugliese. Proprio nel Salento, nella notte tra sabato e domenica, un fulmine ha colpito il campanile della chiesa del Santissimo Sacramento di Supersano, provocando il crollo della parte superiore della struttura. Un boato notturno avvertito dagli oltre 4.000 abitanti, nessun ferito, solo tanto spavento e danni ad alcune auto. A lanciare l'allarme dopo queste ore di maltempo è col diretti Puglia, secondo cui le coltivazioni invernali in campo come cavoli, cicorie, radicchio e broccoli sarebbero le più colpite, ma non solo. Lo sbalzo termico avrebbe un impatto anche sull'andamento dei costi di riscaldamento delle produzioni in serra. Intanto la settimana di Capodanno si apre con un leggero miglioramento delle condizioni meteo ed un sottile rialzo delle temperature.